Andrei quindi a questo punto a parlare di Basilicata Comics and Games, quindi chiedo di caricare la mia presentazione, mi serve il puntatore, far conoscere un territorio divertendo e io direi anche divertendosi in alcuni casi perché poi entrare in questi ambiti, poter immaginare di portare con sé una mascotte come Pitagora e interagire con i ragazzi è una cosa che arricchisce il nostro lavoro, il lavoro di chi fa promozione e comunicazione con qualcosa che ha un senso di nuovo, di novità e di continuo cambiamento. La prima immagine che vi mostro è una bellissima immagine della Basilicata, questa è una foto di una delle mappe dei Musei Vaticani. La mostro sempre perché ha una forza visiva enorme, c'ha una sintesi di quello che è la Basilicata, di come effettivamente i geografi l'hanno vista anche in passato. Una catena montuosa, tantissimo verde, dei fiumi, oggi c'è qualche lago in più, ci sono le dighe, i fiumi magari sono un po' più striminziti, però c'è il mare, c'è il mare Tirreno, il mare dell'Oionio, ma è tanto tanto verde, è una regione ricca di boschi, è ricca di tante cose nascoste come in un bosco uno può trovare. Molte delle nostre fiabe, delle fiabe dell'universo, del mondo, sono ambientate in un bosco, il bosco dà un senso del mistero. Effettivamente la Basilicata è quasi un po' misteriosa, è una regione poco conosciuta ed entrando un po' nel linguaggio di questa mattinata, questa descrizione della Basilicata è come la descrizione di una mappa di un tesoro nascosto e chi lavora in APT, chi lavora nella promozione di questo tesoro, deve disvelare senza scoprire troppo quelle che sono le bellezze, ma facendole percepire, facendole percepire a una platea nazionale ed internazionale che non si conosce e ha tanti interessi. Non è soltanto quella del settore dei tour operator e quindi del settore chiuso nel mondo del turismo, perché molto spesso chi parla dell'APT la definisce azienda di promozione turistica, in alcuni casi è diventata anche l'associazione provinciale del turismo, però quella dell'APT viene sempre associata alla parola turismo, in realtà si chiama agenzia di promozione territoriale. Promozione territoriale significa un po' tutto, il territorio è fatto di persone, è fatto di storia, è fatto di industria, è fatto di tante cose, vedremo che ci sono anche... ecco, anche io sbaglio... ci sono tante cose. Allora, qual è uno dei problemi da cui bisogna partire per chi lavora in APT? La Basilicata, bisogna dirselo, è una regione troppo poco nota, poco conosciuta. Scontiamo questo piccolo grande problema e chiaramente se è poco conosciuta la regione, sono poco conosciuti i tesori che vi sono all'interno e un patrimonio sconosciuto non è una risorsa. Siccome è una regione che deve sviluppare il suo potenziale ancora tantissimo, è chiaro che questo diventa un primo e fondamentale elemento di attenzione da parte di chi lavora in APT. Quindi lavorare per promuovere una regione come la Basilicata è una sfida, è una sfida che sconta tante piccole criticità. Innanzitutto ha due nomi, Basilicata e Lucania. Pensate ai grandi marchi, Nike, un proiettile, una cosa piccolissima, secca. Se pensate a tutti i marchi del mercato, sono marchi brevi, identificabili in modo chiaro. Partire con due denominazioni è già di per sé una penalizzazione nel mondo calcistico. In più, Basilicata, quello principale, è un nome lungo, ha tante sillabe. La Puglia, che è una regione leader nel mondo del marketing turistico, ha un nome secco. Il Lazio, il Veneto arriva a tre sillabe. Basilicata è una parola tosta da portare in giro. In più, ve lo dico per esperienza personale, ci sono tanti luoghi comuni che potremmo definire, io qui sono stato diciamo avuto una plomb istituzionale, deficit conoscitivi della cultura di massa, trovate voi le altre parole. Matera è in Puglia. No, Matera non è in Puglia. Un amico dei tempi dell'università, io ho fatto ingegneria, quindi comunque una scolarizzazione c'era, pensava che la Puglia si confinasse con la Calabria. Dico una storia vera. E poi tante altre cose, Pitagora, Orazio, Federico II. Federico II è identificato molto spesso con la Sicilia, ma in Sicilia non ci ha vissuto quasi per niente. La sua storia, il suo lascito nella cultura occidentale è fondamentalmente legato a Melfi e al Vulture. Il primo ad aver dato un grido universale, la Basilicata esiste, è stato Rocco Papaleo. Noi gli saremo per sempre grati, è un gigante. Se ancora oggi ci chiedono Basilicata cost to cost, manco fossimo gli Stati Uniti, lo dobbiamo al genio di Rocco Papaleo, un autore straordinario e universale. Qui ho trovato una bella locandina, credo che sia coreano, sebbene all'estero abbia avuto meno di quello che meritava come è successo. Una Basilicata cost to cost ce lo chiedono tutti, sempre, anche dopo tanti tanti anni. Qui vedo Margherita Romaniello che giustamente sorride di questa citazione. L'estero, questa sfida è ancora più grossa. Voi pensate come interloquire 007, The Passion, i grandi colossal, il cinema ci ha aiutato tantissimo, così come Matera 2019, Matera in Basilicata. Però oggi, quando noi viaggiamo in giro per il mondo a parlare di Basilicata, dobbiamo innanzitutto superare un primo livello, una prima barriera. Chi gioca sa che sono i livelli. Il primo livello è Basilicata. What? Cos'è la Basilicata? Quindi c'è una incoscienza iniziale. E già se noi riusciamo a passare al secondo livello, what is Basilicata? Cioè la curiosità, destare la curiosità, già abbiamo fatto una buona parte del lavoro. Il terzo livello, quello che già ti dice forse ce la stiamo per fare, è quando si passa al where is Basilicata. Dov'è la Basilicata? Cioè c'è una volontà di azione, c'è un interesse. E noi su questo interesse dobbiamo operare come agenzia di promozione territoriale. E quindi tornando alla questione iniziale, diciamolo, esiste un grande problema culturale che dobbiamo affrontare mediante il racconto di ciò che è, ma anche di ciò che potrebbe essere. E quindi non è soltanto un tema di usare tante lingue, ma di usare tanti linguaggi. Io ho cercato volutamente questa bellissima immagine di tanti anni fa del lente del turismo della Basilicata, in cui c'è tutto. Ci stanno i sassi di Matera, c'è la Magna Grecia, c'è la Pacchianella, c'è Maratea, ci sono fino anche i pozzi di petrolio e l'acquedotto, la galleria dell'acquedotto che porta acqua potabile a mezzo sud Italia. Era uno strumento di quel tempo, di quei tempi, anni 60 se non vado errato, ed era uno strumento, una sintesi efficace, una sintesi efficace che anche noi dobbiamo cercare di fare. Lo possiamo fare con gli spot, lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare, lo possiamo fare con i social, lo possiamo fare con tanti modi di raccontare. Raccontare cosa? Uno dei luoghi più veri del mondo. Questa frase la cito sempre, perché secondo me è una frase bellissima, una sintesi di una espressività straordinaria. Di Carlo Levi, nel 1952, l'illustrazione italiana, c'è un articolo, lui parla di Matera, ma per me si può estendere facilmente, Matera era il simbolo della civiltà contadina, simbolo dell'intera Basilicata. E la radice di questa verità, diceva sempre in questo articolo Levi, sta nella tensione interna di questo mondo. La tensione interna di questo mondo, e qua vedete sintetizzato in una famiglia che viveva nei sassi, queste case contadine che sono state studiate, disegnate, antropologi, sociologi, economisti, geografi, si è scritto tanto sulla Matera di quel tempo. Quello che noi abbiamo cominciato a scandagliare in questi anni, e non parlo solo dell'APT ovviamente, perché c'è chi ha cominciato molto prima di noi, e questo rapporto che mi incuriosisce davvero tanto, e lo dico alla Lucana Film Commission, questo rapporto intimo e creativo tra un luogo vero e l'immaginario, la fiction, che noi oggi esploriamo nel mondo del digitale. Il mondo del digitale non vuol dire soltanto videogiochi, vuol dire realtà aumentata, vuol dire interazione, graphic design, visual storytelling, ci sono tanti nomi, spesso molto prendiamo dall'inglese, dobbiamo mutuare queste parole, e io ho fatto bene a mettere meno di un quarto d'ora, così mi sono accorto che devo accelerare. La prima immagine di rapporto fra questo racconto che ho scelto risale al 2014, ho scelto questa perché mi tocca direttamente, è un progetto che abbiamo fatto, una residenza artistica fatta a Casa Cava, a Matera, con un artista digitale, una persona che ha preso i campanacci, una cupa cupa, un pezzo del carro della Bruna e attraverso dei microfoni pezzometrici, dei microfoni a contatto, gli ha trasformato in strumenti di interazione con il digitale. Con Arduino e altri programmi ha realizzato un mondo virtuale che si attivava e cambiava a seconda dell'interazione con gli oggetti. E questo mondo virtuale, chiedo a Marco Vigelini, vedi, è un po' a cubetti come i Lego di Minecraft. In più c'era un sound designer che ha composto delle musiche utilizzando i suoni del tufo, questo che sentite è una tegola campionata, ha composto delle musiche che poi sono state suonate da un collettivo dentro Casa Cava il 10 agosto del 2014 e in quella sera, con le pareti in tufo della grotta, la grotta era un ambiente immersivo e il vibrare del palcoscenico attivava le diverse animazioni che vedete in questo video di scarsa qualità perché nella fretta ho dovuto recuperare qualcosa che avevo online. Questa era la valigia della memoria, o la città risonante, un primo progetto che è venuto prima di Basilicata Comics & Games. Ma andando al Comics & Games, tre considerazioni sulla comunicazione creativa. La comunicazione è un'azione culturale, partiamo da questo presupposto. Così come i fumetti non sono una cultura di seconda mano o qualcosa di deteriore, ma sono cultura vera e propria. Lo ha detto Umberto Eco, Oreste del Buono, lo hanno detto persone molto più autorevoli di me. Quindi facciamo cultura, non facciamo solo promozione. Abbiamo la necessità di usare strumenti innovativi che abbiano un impatto e i numeri che a breve sentirete mi confermano questo. E poi da piccola Basilicata o Lucania, che dir si voglia, abbiamo la necessità di distinguerci. Dobbiamo emergere, dobbiamo uscire da una condizione di margine che ci ha visti per troppo tempo e poi dobbiamo scontare quando abbiamo a che fare con i problemi dello spopolamento, del fare impresa. Abbiamo la necessità di distinguerci perché il business as usual, l'ordinario, non ci aiuta per niente. Questo imperativo ci ha portati a coniare il programma Basilicata Comics and Games, nato durante il Covid, confrontandomi con Silvio Giordano, che non è ancora arrivato, ma arriverà, con Giuseppe Palumbo. Li ringrazio sempre perché sono persone con le quali abbiamo lavorato e lavoriamo e c'è una dinamica di mutuo scambio e arricchimento nelle attività che stiamo realizzando. Scumetti e videogiochi sono gli strumenti di comunicazione culturale più cresciuti durante la pandemia. ci permettono di parlare a varie fasce di età e direbbero gli studiosi di una teoria molto complessa, l'actor network, sono dei vascelli, sono come dei vessel, dei vascelli che veicolano le idee, le fanno circolare e queste idee diventano poi uno stimolo per le persone ad agire. Qual è l'azione? Interessarsi della Basilicata, incuriosirsi, muoversi, creare delle opportunità. E così la Basilicata è stata la prima regione d'Italia a dotarsi di un vero e proprio programma. Poi è nata, si è arricchita di una G, la Lucana Film Commission, e quindi c'è anche una commission che si occupa e si occuperà di giochi. Giochi che sono certificati da uno dei più autorevoli studiosi nel campo della cultura e dell'arte, Glenn Lowry, nella mostra Never Alone, Mai Soli, dedicata ai videogames e all'interactive design, i grandi videogiochi incarnano il meglio della cultura contemporanea. Il coraggio di osare visivamente l'innovazione tecnologica e la rilevanza sociale. E ditemi se non è così, approdando poi in quello che vi sto per mostrare. Questo è il comodo relax del mare di Novasiri, è un mio buon retiro estivo, meta di turisti, famiglie soprattutto, luogo di una natura incontaminata, condivide queste spiagge con noi, l'uccello fratino, il nemico di tutti coloro i quali hanno i lidi, perché non possono costruire i loro lidi ogni anno prima che l'uccello fratino non abbia nidificato. Quindi è una zona ricca di cultura, ma che per il turista balneare non dice altro che mare, spiaggia, attività, diciamo solo balneari. E allora noi che cosa abbiamo detto? Portiamo i ragazzi di queste famiglie, prendiamoli per mano e portiamoli dentro Minecraft. Abbiamo cominciato a parlare di edutainment quando proprio in quel periodo c'era tutta una polemica sull'insegnamento della storia a scuola oppure no. Noi abbiamo portato i ragazzi dentro questo mondo che si chiama Metapontum, la nostra prima avventura in Minecraft. E' con Marco Vigelini di Maker Camp che parlerà fra poco. E così chi entra dentro Metapontum scopre cos'è, scopre il teorema di Pitagora, scopre che sono le tavole di Eraclea. Non so quanti di voi sanno che sono le tavole di Eraclea, magari molti me lo auguro. Però se lo volete scoprire andate a giocare in Minecraft a Metapontum. E così si scopre che esiste a Policoro, uno dei centri più importanti del Mezzogiorno d'Italia per il recupero delle tartarughe marine. Si scopre anche che qui c'è una delle agricolture più antiche del mondo, ma anche più moderne del mondo. Quindi ci siamo divertiti, sì, ci siamo divertiti e cerchiamo di far divertire. Quando ne ho parlato con l'Only Planet in un'occasione, era sempre Covid, quindi una lezione online, è stato molto gratificante, non per me ma per noi, per la Basilicata, perché era definita una buona prassi, una USP, una Unique Selling Proposition, quindi qualcosa che nel mondo del marketing si distingue. Eravamo noi come case study e l'Islanda, c'è Crazy Horse, non so chi di voi conosce questo stupendo progetto islandese. In due anni più di 420.000 download. Quindi anche dal punto di vista dell'uso delle risorse pubbliche, noi siamo un'istituzione, un'istituzione pubblica, quindi entriamo in un mondo un po' scivoloso per chi lavora in qualcosa che, proprio per etimologia, istituzione, è qualcosa che deve permanere nel tempo e deve essere uguale a se stessa. Poi siamo entrati in una super community. Minecraft è amato, crea nel mondo reale engagement, qui eravamo a Lucca, ci siamo tornati a Lucca Comics & Games, il Creeper che sbanca dovunque. E quindi è stata un'operazione di cui possiamo dire di essere orgogliosi, tant'è che lo abbiamo riplicato poi con Biculture. Ma non ci siamo fermati qui. Non anticipo nulla, perché queste cose le ascolterete nel pomeriggio, ma con Pino's Way abbiamo parlato dei parchi nazionali della Basilicata, con X-Parks abbiamo portato la realtà aumentata, per esempio a Firenze, in una mostra di arte contemporanea nella culla della cultura rinascimentale. Con le animazioni e le creazioni visionarie di Silvio Giordano abbiamo creato delle ambientazioni di videogame potenziali, non solo, ambientazioni oniriche, sono dei sogni che mescolano il futuro con il passato. E poi arriviamo solo brevemente al fumetto, perché se si chiama Comics & Games è perché c'è anche la C. Qui vedete il catalogo di una mostra che inauguriamo il 10 giugno con la milanesiana a Milano, Basilicata, una terra fra le nuvole. La terra fra le nuvole racconta se stessa e i suoi eroi, Ludovico Nicola di Giura, pubblicato su Alter Linus, con la casa editrice Oblomov, Topolino che arriva in Basilicata nei cinque parchi nazionali e regionali e oggi è tradotto e pubblicato in Brasile, Germania, Olanda, Svezia, Danimarca e Finlandia. Le ho ricordate tutte le bandiere. E chiudo con questa piccola chicca che non è stata realizzata per APT, ma che è stata pubblicata su Linus di febbraio 2022, dedicata ai carnevali. Qui c'è il carnevale di Satriano, l'autrice Margherita Tramutoli, e lei chiude questa storia bellissima sul carnevale di Satriano con queste parole di qualcuno molto più importante e famoso di me. E questa nostra vita, non ci vedo, e questa nostra vita, priva di un pubblico rifugio, trova lingue negli alberi, libri nei ruscelli che scorrono, sermoni nelle pietre e il bene in ogni cosa. A noi, alle nostre maschere, alle nostre tradizioni, alla nostra storia, a noi l'eternità. Anche grazie ai videogames. Quindi mi fermo, ho parlato troppo, e vi ringrazio per l'attenzione e per la pazienza. e vi ringrazio per l'attenzione e per l'attenzione e per l'attenzione. e vi ringrazio per l'attenzione e per l'attenzione e per l'attenzione.